Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Montelupo e rallentamenti in direzione mare tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e in direzione Roma tra il Bivio, A1 variante e Badia. Buon si Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!